La mostra è costituita da opere estremamente variegate e dissimili tra loro, frutto dello stato d'animo del momento di ciascun socio ASDA. La performance sarà un'esibizione pittorica in omaggio a Jackson Pollock, pittore statunitense e fondatore dell'action painting che dipingeva facendo gocciolare il colore su tele estese per terra. Quindi dipingeremo un po' alla Pollock, un po', e molto a modo nostro, ad annettare il momento magico due componenti della flight bag, precisamente Anna e Roberto. Siete giusto? Ci riprende Fabrizio Cremonesi di Lexallo. C'è un piccolo rinfresco della sala a sinistra entrando. Piccolo, lontano che abbiamo... Sì, ci sono delle corte, delle crostate, delle corte che... Casalimbe. Casalimbe. C'è un piccolo rinfresco della sala a sinistra entrando. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.